ed eccoci qui di nuovo con Andrea, Andrea piacere e vi presento le due ragazze di Roma Rachele, Alessandra, poi abbiamo Alina e siamo qui intorno a questo Canam come si chiama? Canam e Andrea ci ha detto che domani sera, sabato, festa della donna ci sarà un mega raduno di auto e moto, sono emozionato perché tutte queste ragazze e questi prodotti tecnologici mi girano la testa, saranno alle 11 circa al Colosseo, partiranno da qui, dalla nuova fiera di Roma verso le ore 6 e partiremo alle 7 e l'invito è aperto a tutti, purché ci sia da divertirsi, moto e anche buggy e ci sarà un Canam, uno Spider, difficile scusate, 6 U7 di cui uno con lo stereo, come dicevi c'è un quad con 1000 Watt, un quad victory con 1000 Watt non è che salta ogni camminativo cavalletta ok, un saluto quindi di nuovo Alina, Alessandra e Rachele ciao e Andrea, ciao a tutti, victory di Pavia, ciao a tutti